Dunque siamo alla pagina sportiva, è ovvio che quest'oggi c'è tanto spazio dato al Perugia dopo la sconfitta, o meglio il pareggio, che però vale una sconfitta. Il pareggio ieri nella semifinale playoff con il Benevento, il Perugia doveva vincere a tutti i costi, di fatto ha pareggiato un 1-1 che non gli consente di passare il turno, dunque addio alla Serie A. E allora ecco i titoli dal Corriere dell'Umbria, playoff, maledetti, Grifo e Lacrime, il Benevento strappa il pareggio in trasferta, sfila la finale per la Serie A al Perugia, 1-1, game over, alcuni i sanniti di Mister Baroni bloccano le fonti di gioco bianco-rosse e vanno in fantaggio con Puskas, risponde Nicastro in zona Cesarini ma ormai è troppo tardi. Brignoli e Del Prete, che cuore, ovviamente ci sono le pagelle, i bianco-rossi sotto la lente, il tecnico rischia tutto nel finale con 3-2 fantasia ma non festeggia il compleanno come avrebbe voluto. Brighi non ha lo smalto nelle silate migliori, è costretto a uscire e poi ovviamente i voti vanno tutti dal 6 e mezzo, 6-5 e mezzo per qualcuno, insomma nessuno brilla in maniera particolare, fatto sta che il risultato quello è. E c'è il commento di Bucchi, sconfitti ma non battuti, siamo a pezzi ma pieni di orgoglio, è stato un cammino strepitoso secondo l'allenatore. E poi c'è ovviamente il tifo, guardate che cos'era Perugia o meglio il Curi ieri, c'è un Perugia da A, il tifo del Grifo vince, spinge per 95 minuti ma non basta, bandiere, cori, passioni e ben 18 mila sugli spalti che ovviamente se ne sono andati con una grandissima delusione. Dal Perugia parliamo della Ternana, soprattutto del futuro della Ternana dopo l'addio dei Longarini, Fera al lavoro per valutare gli acquirenti e l'avvocato Proietti occuparsi dell'accessione delle quote a fronte di garanzie economiche. Ieri Ferrero ha sondato il terreno in città, resta in auge anche la pista Camilli. Andiamo a parlare del Gubbio, lasciarsi un giorno al Curi, Gubbio e Magi al Capolinea, ieri sera tecnico, pannacce e notari erano sugli spalti di Perugia. L'addio, si vedrà oggi l'ufficialità di questa che ormai sembra essere la decisione. Fontanelle Branca è fatta, Francioni, bella chance, il nuovo tecnico Gianni Francioni si presenta, ho detto sì perché qui si può fare bene. In Alto Tevere oggi nasce il Castello Calcio SRL, il presidente è Lucio Ciarabelli, dunque a lui un buon lavoro. Dal calcio al volley perché la Sir cala il Tris, ecco Anzani, che emozione. Il centrale ex Verona dice la trattativa è stata molto veloce, entro a far parte di una squadra di grandi giocatori. E poi parliamo di scherma, Elena Benucci da Terni, Brinda e Argenta agli europei. Bel colpo al campionato master per l'atleta del circolo di Terni. E poi mini rugby tutto pronto al Pietro Barbetti per il torneo Lupo di Gubbio. Mentre per il Biriardino a Città di Castello c'è il torneo Wisp Alto Tevere con le qualifiche ai quarti. Il messaggero Grifo, il cuore non basta, il Perugia si gioca tutto nella ripresa ma nel momento del massimo sforzo prende un maledetto gol da Pusca, Sanni Castro pareggia ma ormai è troppo tardi. Cragno è imbattibile, il Benevento 1-1 va in finale con il Carpi. Bru Bucchi, siamo stati sfortunati, non meritavamo di uscire. Però poi la legge del calcio, questa è Ternana, Spuntaferrero, il patron della Sampdoria avrebbe ammesso di essere interessato all'acquisto della società. E ovviamente c'è grande attesa perché è vicina la data di iscrizione al campionato. Il Foligno invece della rinascita tra Petterini, Menchinella e Cavitolo, questi alcuni nomi di chi sarà nel gruppo. E poi il Volley, la Sir Spiazza Tutti, ecco Anzani, il centrale che dice non potevo dire di no. Chiudiamo con la nazione, addio sogni, la delusione dei 20.000, questo è il titolo per il Perugia, lo stadio pieno, la curva emoziona, ma poi ovviamente la delusione e c'è anche il voto, le pagelle con Brignoli, ci prova ma l'attacco non va e il risultato è quello che abbiamo visto. Ancora per il calcio, Ternana c'è ottimismo, ci sono contatti concreti, il 15 giugno comunque resta il termine indicato da Longarini, Gubbio Maggi, Maggi, la firma appare vicina, il presidente Rossobleu per me al momento è l'allenatore della squadra, ma oggi dovrebbe esserci l'ufficialità, e poi il colpo Sir Perugia ingaggiato Anzani. Per il rugby, Barton, festa da Serie A, i giovani sono stati la chiave del successo. Bene, era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e poi l'appuntamento torna a partire dalle 19 con i TG. Buona giornata. Buona giornata.